Come è stato ufficialmente annunciato ieri in conferenza stampa, anche Foggia ha un importante presidio delle forze dell'ordine istituito per contrastare la criminalità organizzata su tutto il territorio della Capitanata. Si tratta del ROS, il Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri. Personale altamente qualificato, specializzato in operazioni particolarmente pericolose, i cui compiti sono stati illustrati dal comandante del ROS, il generale Giuseppe Governale. Legge i fenomeni, non guarda al singolo obiettivo, puntiforme, riesce a suggerire perfino all'autorità giudiziaria delle manovre investigative appropriate per ottenere dei risultati che speriamo siano proficui nel prossimo futuro. Quanti uomini saranno impegnati in questo primo distaccamento? Sono impegnati 15 uomini, ma guardi, le dico questo, quando venne istituito il nucleo speciale antiterrorismo nel 74 il generale della Chiesa aveva 33 uomini e con 33 uomini sconfisse il terrorismo nel 74. Non scomodiamo la storia perché non è un momento storico, è un momento importante, bisogna dare ai cittadini le giuste chiavi di lettura. Questo nucleo anticrimine non sarà certamente, non può essere la panacea. E' un valore aggiunto, importante, che si somma per l'appunto al dispositivo presente sul territorio e dà soprattutto quale indicazione? Quella che la provincia non è abbandonata a se stessa, che lo Stato non deflette, che lo Stato sa perfettamente quale momento in termini di sensibilità oggi la provincia offre al panorama nazionale, cercheremo con questa articolazione di dare dei risultati e delle risposte concrete. Sappiamo che è un territorio in cui le estorsioni sono un fenomeno indemico, dove purtroppo non c'è tanta gente che denuncia. Cercheremo con la nostra spinta di cercare di modificare questa tendenza, perché la gente ha bisogno di fiducia per denunciare. E purtroppo le organizzazioni criminali presenti nel territorio hanno intimorito per tanti anni questa gente.